Nelle lettere trovate nel covo del boss lei scriveva parole appassionate ed era gelosa del rapporto tra il capo mafia e la sua vivandiera Lorena Lanceri, già arrestata il 16 marzo scorso. Nella rete di Matteo Messina Denaro c'era un'altra donna, Laura Bonafede, 56 anni, maestra di scuola elementare, figlia del defunto capo mafia di Campobello di Mazzara e moglie di un ergastolano. Venezia era il nome con il quale il padrino la chiamava nei suoi pizzini. Questa mattina l'arresto. I magistrati della procura di Palermo le contestano i reati di procurata in osservanza della pena e favoreggiamento con l'aggravante di avere favorito l'organizzazione mafiosa. Per gli stessi reati è finita in carcere anche Martina Gentile, figlia della donna e anche lei infatuata del boss. Avrebbe incontrato diverse volte il latitante e messaggiato con lui, carissimo adorato, scriveva la ragazza, che immensa gioia poterti abbracciare. La procura chiedeva per lei gli arresti domiciliari, ma il GIP li ha rigettati. Dai pizzini ritrovati nel covo di Messina Denaro è emersa anche una lunga relazione sentimentale tra la Bonafede e il padrino, ma anche l'esistenza di altri covi che adesso i carabinieri del Rosso stanno cercando. Uno era chiamato in codice, il limoneto. Anche di recente la donna avrebbe fatto la spesa per Messina Denaro. Si sono visti per l'ultima volta in un supermercato di Campobello due giorni prima dell'arresto.